Cambio al versi dei giovani democratici, Carlo Pasqui è eletto nuovo segretario. È iniziata questa nuova avventura dopo due anni e mezzo della segreteria di Jacopo Franci, che per impegno ha dovuto lasciare anticipatamente. Siamo andati a congresso e sono stato letto all'unanimità. Ora i nostri obiettivi principali saranno l'organizzazione e essere capillari in tutto il territorio. Siamo presenti in Val di Chiana e in Val D'Arno e ora si è riformato il circolo di Arezzo. Ora cercheremo di entrare in Val Tiperina e in Casentino, dove ce ne sarà bisogno, anche perché ci saranno le amministrative a breve. L'obiettivo della giovanile deve essere non solo portare avanti i temi di sinistra, progressisti, ma anche proprio formare i giovani e la classe dirigente del futuro, sia partitica che amministrativa, a modo tale di non mandare nei consigli comunali giovani, impreparati, alle prime esperienze, ma dargli anche le chiavi di lettura per riuscire a fare il loro lavoro al meglio. Se si pensa che quando abbiamo iniziato questa esperienza, c'erano giovanili già presenti a Arezzo, erano 14 circa, quindi altri numeri, dopo il circolarezzo per vari motivi erano andate in parte a scomparire. Dopo il primo tesseramento della prima segreteria di Jacopo Franci, eravamo circa 30, adesso siamo 65-70 più o meno, quindi diciamo che c'è stato un pochino di iscritti in più, però chiaramente questo non basta in un territorio di 300.000 abitanti, dobbiamo aspirare a fare molto di più. Grazie a tutti.